Fiori Sopra l'Inferno, anticipazioni ultima puntata, episodi di lunedì 27 febbraio. Attesa per il finale di stagione di Fiori Sopra l'Inferno. La nuova fiction con un ineditale no Sofia Ricci si concluderà tra appena sette giorni e c'è attesa per capire come si concluderanno le vicende che vedono impegnate l'attrice nel ruolo del commissario Teresa Battaglia. La settimana prossima andranno infatti in onda gli ultimi due episodi, ma cosa vedremo all'ora in tv? L'appuntamento è per lunedì prossimo, 27 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1. Il primo episodio della serata, il quinto di sei, andrà in onda nel consueto orario delle 21.25. A seguire, circa un'ora dopo, verrà trasmesso il sesto ed ultimo episodio per questo primo capitolo dei casi di Teresa Battaglia. Secondo le anticipazioni dell'ultima puntata il corpo di Wiesel è stato portato via, per Teresa il killer ha sottratto qualcosa alla vittima. Durante l'attacca, il commissario intuisce, il killer, il cui DNA è ad un passo dall'essere identificato. Sta proteggendo i quattro bambini. La ricerca di Marquez prosegue mentre Ebrana è libero. Teresa intuisce allora che deve sentire Matias. Allo stavolo c'è un inquietone scoperta, lei e la squadra fanno i conti con oscuri e vecchi segreti. La fiction, un thriller adrenalinico e pieno di colpi di scena, è una coproduzione Rai Fiction Publis Pay. Per la regia di Carlo Carlei, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission e la collaborazione della Polizia di Stato, è basato sul romanzo d'esordio di Ilaria Tutti. Le rarefatte atmosfere delle Dolomiti friulani hanno fatto da cornice a questa prima avventura di Teresa Battaglia alle prese con due nemici, il killer a cui dà la caccia e il mostro che rischia di rubarle tutto ciò che ha, il suo intuito. La sua mente cristallina, i suoi ricordi, se stessa, ovvero l'Alzheimer. Ma è già in cantiere una seconda stagione? Al momento. Benché non si abbiano certezze e notizie ufficiali in merito, tutto lascia presupporre che possa esserci una seconda stagione considerando gli elementi con i quali è stata prontata la serie. In tal senso non perdetevi tutti gli aggiornamenti su www.ilcorriere della cittacom. Iovo che muzica a pus cu rapul si pentru el e de bun simt sa ridic stacheta Liric vorbint sa ajunga la ea doar nasa cu racheta S'o admire nave spaziale de pe Andromeda Ăsta-i telul, il execut ca pe Maria Antoaneta Da'ia de cand ma stiu textul-i plin de dude Dume redante printre dalea culte Încerc flow-uri sute la show-uri buite Cum rub capete lumea de din capă rupte Obele bat cu inima deodată Că nu le opresc, că nu s-a atât de nebun Mă gândesc tu ce crezi Orice crezi ține pentru tine Fii egoista, liniștit Și eu scriu rime pentru mine Pentru b-boy-ul din Grigo DJ-ul...